di tale gruppo lo svolgimento di brevi interventi della durata di un minuto da imputare ai tempi previsti dal contingentamento per gli interventi a titolo personale. Ci siamo, non hanno votato tutti, Fabri. Sì, Fabri, l'ho detto. Ha votato, non vedo, sì, Frusone. Mi faccia un segno se ha votato perché non vedo nulla. Mi pare che abbiano tutti votato. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Come preannunciato, sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 21.15. 21.20. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.